Tutta questa fila per prendere le figurine mancanti per finire l'album Per mio nipote e anche per noi che ritorniamo un po' abbastanza indietro La scusa a mio figlio in realtà non per me Ce n'era una che non trovava mai? Sì, era lo squetto del Palermo che per due anni mi ha fatto penare Io sono il suo palletto, lo dicevo prima, sono a sua disposizione E lei da piccolo giocava con le figurine? Sì, ma non ho mai finito un album Qual è la figurina più bella? Lo scudetto della Roma La prima maglietta della Lazio Quella di Covace Gerviglia Bruno Conti c'è? 378 euro No, Bruno Conti c'è Pizzaballa l'ha trovato Pizzaballa, Facchetti, non è morto Poi che c'hai? Giubbertoni, dai mi ricordo Giubbertoni Bertini, buon insegno Qual era quella che lei amava di più? Ah, io quando ero piccolo c'è evoluzione dell'Inter E me l'ha fatto diventata dell'Inter Poi crescendo ho diventato da Roma Però, buon insegno Ci vuole pazienza Mamma mia Tanta pazienza Per amore dei figli Questo è altro Però ce la fate a finirlo, sì Speriamo Se non ci surgeliamo prima